Impugnare l'articolo 38 del decreto sblocca Italia, è quanto chiede il Presidente del Consiglio regionale Piero Lacorazza. Grazie all'impegno dei parlamentari e del Presidente della Regione, il testo del decreto è stato indubbiamente migliorato, afferma Lacorazza, ma all'articolo 38 sulle procedure autorizzative in materia energetica non è stato ripristinato il principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni. Per Lacorazza si tratta quindi di essere conseguenti, traducendo l'ordine del giorno approvato a settembre dal Consiglio regionale in una formale impugnativa davanti alla Corte Costituzionale che dovrà pronunciarsi sul delicato tema delle prerogative delle Regioni. L'articolo 38 del decreto sblocca Italia, aggiunge il Presidente, prevede di fatto l'anticipazione di una riforma costituzionale che sottrae definitivamente alle Regioni, agli enti locali ed ai territori ogni potere in materia di autorizzazione delle attività petrolifere, unificando impropriamente le attività di ricerca e di coltivazione nel titolo concessorio unico. Credo sia utile e giusto confrontarsi senza pregiudizi, conclude Lacorazza, seguire e ascoltare tutte le voci che si esprimeranno, come ha giustamente detto lo stesso Presidente Pittella.